e madre chiedi agli altri a sistemarti gli attrezzi ma guarda che c'è scritto le istruzioni per le macchine in palestra e tu perché gli hai richiesto da Zizia? perché anch'io sono un po' così e allora? non è abituato dall'Italia che c'era l'istruttore che mi diceva fai così, fai colì, no stai sbagliando il movimento io proprio non sono abituato alla palestra dove vado a fare il movimento, dovevo stare tutto il giorno andando a casa? è lunedì, non c'è nessun piano e tu stai prendendo tutti i sassi io ho chiesto da un'ambito oh, ok a che può l'amare più da un'ambito e io ho chiesto da un'ambito, non c'è nessun piano e siamo in mezzo alla chiesto di ore vi gi opischi per memmensi planer e scopoli che potremmo per creare in un'ambito e tu pote, ovviamente, in sfruzione vedi acare una maggiata ora è la sicer si il workshop si sono in ​​fezione il anticipato andiamo al laghetto di ore andiamo sotto l'olio dei club vabbè, andiamo alle piscine vai col vento andiamo un'altra volta a sciare 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 Grazie a tutti.